I social network sempre più pervasivi rischiano di portare i nostri giovani a sconfinare in un utilizzo della rete in cauto e talvolta illecito. Tanti studenti pesaresi si sono alternati oggi nell'aula track multimediale allestita in piazza del popolo dalla polizia di stato in occasione della campagna itinerante di educazione alla legalità una vita da social. Una campagna ideata dal dipartimento della pubblica sicurezza mirata all'utilizzo sicuro di internet, all'educazione, alla sicurezza stradale e al contrasto ai reati di discriminazione. Vita da social è una campagna educativa itinerante realizzata dalla polizia di stato in collaborazione con il ministero dell'istruzione quindi ovviamente i destinatari principali sono gli studenti. Abbiamo qua ragazzi, operatori specializzati e il nostro apparato di comunicazione e facciamo questo l'ennesima giornata speciale quindi lo facciamo tutti i giorni. In questo caso abbiamo un'iniziativa che ci viene dal centro e molto forte dal punto di vista dell'attecchimento comunicativo. I ragazzi mi sono sembrati molto interessati. È una buona giornata. Vogliamo puntare molto sulla consapevolezza soprattutto dell'uso di internet, dei pericoli che riguardano l'utilizzo in cauto del mondo del web. Infatti con noi abbiamo la polizia postale che ha fatto un focus sull'utilizzo consapevole dei social network e sull'importanza di essere consapevoli del fatto che quello che si posta su internet rimane per sempre. Uno può cancellare la foto, può cancellare il commento però quello ormai è entrato in rete e ci rimarrà. Quindi l'importanza di essere veramente sicuri e consapevoli quando si sta postando qualcosa sui social network perché poi le conseguenze si protraggono per tanto tempo. Poi abbiamo quest'anno anche approfondimenti sulla sicurezza stradale. Infatti abbiamo i colleghi della polizia stradale di Pesaro che stanno facendo adesso un approfondimento sull'utilizzo del ciclo motore visto l'età degli studenti hanno pensato che fosse l'argomento più appropriato quindi anche dal punto di vista della gestione del motociclo, la manutenzione, l'utilizzo del casco eccetera. E poi avremo due colleghi direttamente da Roma dell'osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori che è uno strumento operativo interforze che è nato nel 2010 per volere dell'allora capo della polizia Manganelli per ottimizzare l'azione della polizia di stato e dei carabinieri nella prevenzione nel contrasto dei tutti i reati che hanno sfondo discriminatorio. Presente al track anche il campione mondiale di kickboxing Jordan Valdinocci, atleta pesarese che nell'occasione ha portato il suo messaggio educativo ai ragazzi. Per me è sempre un piacere, è già la seconda volta che partecipo a questa occasione, a questo chiamato per la parte educativa sono disponibile perché penso che sia veramente importante dare un contributo, quindi quello che abbiamo ricevuto come dico sempre come atleti anche di darlo ai ragazzi che stanno crescendo e che sicuramente hanno bisogno di avere qualche riferimento che possa aiutarli.